siamo un po in anticipo e mancano ancora un paio di minuti troppa luce troppa luce qua dentro spegniamo qualcosa vediamo un po vediamo meglio si dai meglio così un pochino più confidenziale ecco postiamo anche quel cavalletto ragazzi buonasera ciao gianluca sei già qua bravo noi siamo puntuali una sera barbie e lardinelli scusate sto cercando di trovare una posizione che vada bene ciao sciamano da carla manuela non vi seguo più air tra lorena omar stefano iris em neo fabrizio ciao buonasera a tutti ragazzi come sta luce mi sembra un po verde non so ditemi voi un po strana sta luce qua come andiamo e buonasera dalla slovacchia luca buonasera bruno jordan era quello giordo va benissimo ciao ragazzi va bene insomma voi state arrivando quanti siete già bene bene no ditemi se se vi sembra verde a me sembra mi vedo il riflesso questa strana luce poi grizzly ecco di qua ciao ebbene bene state arrivando tifosi partenopei certo vi potete fare tutte le domande che volete tra un attimo tra un attimo la camera leggermente alla mia destra come mai che cosa c'è la mia destra c'è troppa luce questa luce guarda fastidio lo spostiamo è questo il problema boh insomma non lo so vabbè niente allora boh buonasera ragazzi un po bianchina se un po in ombra vabbè sì un po in ombra va bene un minimo di contrasto ci vuole altrimenti la luce piatta fa troppo freddo buonasera buonasera maestro gente barbara buonasera naviganti che state arrivando sono davvero contento di vedervi qui e allora non sto diventando meno male marisa questo verdino un po pallidino pazienza dai sono sono luci così allora niente io sono contentissimo di trovarvi qua e sono già 200 mamma mia che velocità sono contento di ritrovarvi qui di vedere che stiamo crescendo così tanto mi fa piacere è un passo alla volta e chiaramente se si fa si fa un percorso ci vuole ci vuole del tempo pian piano stiamo stiamo crescendo la strada ancora lunga ragazzi però 50.000 è un bel è un bel primo traguardo adesso stavo pensando quando avevamo iniziato a fare i nostri video in una maniera periodica tutte le settimane siamo partiti con strane storie no poi ho aggiunto altre serie abbiamo iniziato ad alternarle però quando siamo partiti con strane storie e qualcuno di voi magari si ricorda eravamo credo 8 900 8 900 non di più qualcuno di voi c'era lo so benissimo e poi quanto tempo ci aveva messo un anno e mezzo almeno 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 un anno e mezzo direi un anno e mezzo perché primavera estate 2000 e 2018 non mi parla messa giusto per dire fabio no appena iniziato non ti preoccupare quindi in quest'anno e mezzo siamo arrivati questo bel numero rotondo 50.000 che riempie la bocca 50.000 persone riempiono stadio non so san siro dai venite tutti facciamo un evento a san siro a claudio benvenuto no no è importante che ci sia anche tu e vabbè adesso poi ci diamo degli altri traguardi speriamo di arrivare non trono di non metterci un anno e mezzo adesso a raddoppiare questo numero no io vi ringrazio perché ecco vedi Omar si ricorda quando ha aderito lui all 836 figuratevi un anno e mezzo no dicevo condividete in me fa piacere che mi fa molto piacere che condividete il canale che lo segnaliate più cresciamo e meglio stiamo il contrario di quello che diceva arbore qualche tempo fa meno siamo meglio stiamo no no più siamo e meglio stiamo e anche la locanda su facebook cresce adesso sono più di 3.000 i clienti o anzi non mi piace i clienti i naviganti siamo tutti i naviganti della locanda e poi ci sono naturalmente tutti tutti molti di voi che mi seguono anche con l'avviso ai naviganti che ve lo ricordo è la mia newsletter settimanale bella domanda come che sei sempre vestito di blu chissà come mai niente un colore che mi piace e colore che mi piace molto e che semplifica le cose sai se non devi continuare a pensare ai cromatismi quotidianamente ma ti vesti con una serie di colori che stanno bene insieme allora fai presto a trovare le combinazioni blu bianco beige con tre colori che vanno che vanno sempre bene insieme e quindi io devo dire che ruoto molto spesso intorno a quelli e vabbè dai vediamo se posso rispondere a qualche vostra domanda allora l'utilizzo del blue screen no dai in queste chiacchierate non voglio usare il blue screen o il green screen perché sono cose un po' più informali vediamo un po' aspettate che non riesco a seguirvi siete già partiti grizzly me lo dice tutte le volte devi impostare il freno ma io tutte le volte nemmeno dimentico grizzly ricordami per favore la prossima volta che facciamo una diretta ricordati di impostare come si chiama il freno come si chiama voi lo sapete non lo so allora barbascura beh ringrazio anche io che barbascura che che ha portato tanti nuovi amici qui sul canale c'è chi mi segue dal podcast dell'esploratorio dell'insolto del 2014 è certo che me lo ricordo ragazzi me lo ricordo sì ci sono anche dei naviganti veri qua un accolto di bloopers oh mamma mia riempiremmo le ore allora tutto bit il gruppo cresce noi cresciamo con il gruppo grazie Gianluca pensa che volevo scrivertelo io ecco bravo bravo Gianluca vedi anche tu ricordamelo anche tu come fai a mantenere la calma e la plonk davanti alle fesserie e le provocazioni beh ragazzi non è che ci sono tante alternative uno si arrabbia e si fa venire un fegato si rovina il fegato si rovina le giornate in ogni momento perché ahimè di fesserire di fandonio ne leggo tutti i giorni per lavoro anche e allora cosa bisogna fare bisogna capire bisogna cercare di capire prima di tutto e dopo anziché arrabbiarsi canalizzare questa questa reazione cercando di fare qualcosa di costruttivo nel mio caso quello che cerco di fare è fornire il più possibile strumenti critici alle persone perché riescano da sole a capire se qualcosa probabilmente è una bufala o se magari invece ha qualcosa di buono dicevamo che questa sera potremmo vedere qualche indizio qualcosa da tenere d'occhio quando leggiamo le notizie magari lo sentiamo o troviamo sul web ci condividono qualcosa per capire un po' così se quello che stiamo leggendo è plausibile oppure no la prima cosa da guardare è che quando vedete i titoli strillati tutte maiuscole italiano più o meno magari saltellante ecco quelli non sono dei begli indizi quando poi ci trovate scritto anche e nessuno ne parla e tu e ce lo nascondono ecco queste sono chiari indizi che c'è un buon motivo se qualcuno non parla delle fesserie però ecco che arrivano quelli a proporcelo a proporcelo loro mandandoci un messaggio condividendo qualcosa di sciocco un'altra cosa che che invece potete possiamo guardare sempre è la fonte chi è che ci sta dando questa notizia da dove arriva la domanda che ci dobbiamo fare sempre io ripeto tutte le volte nei video domandatevi sempre da dove arriva questa notizia l'ho sentita al telegiornale beh avete visto con il video del coronavirus anche il telegiornale a volte dice delle fesserie se non verifica le fonti quindi non è che ci si può fidare semplicemente del telegiornale del giornale che leggiamo abitualmente e tanto meno di quello che troviamo sul web bisogna avere spirito critico sempre chiedersi da dove arriva questa notizia e se uno al telegiornale come hanno fatto o sui giornali dice beh una fonte riservata un agente segreto e bla 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 le vostre antennine dovrebbero raddrizzarsi immediatamente insomma ci sono tutti quegli elementi che fanno sospettare secondo me la cosa più importante è se se leggiamo qualcosa ce la condividono e quella cosa ci scatena una qualche emozione ci fa infuriare dice ecco guarda maledetti lo sapevo io che fanno queste cose terribili oppure al contrario ci fa esaltare ecco proprio come dicevo io benissimo evviva allora non è che sia automaticamente falsa quella notizia però prendiamocela con calma perché cosa succede che noi siamo portati a reagire distinto a quelle reazioni che scatenano a quelle notizie a quelle cose che leggiamo che scatenano un'emozione in noi e quando noi reagiamo distinto e quindi lasciamo parlare le nostre emozioni ecco che le capacità analitiche quelle che ci permettono di ragionare sono sono così sono un po' un po' più afflosciate sono un po' più spente aspettiamo ragioniamoci un attimo andiamo a verificare l'ha detto qualcun altro insomma sono argomenti che come sapete io di queste cose ne parlo proprio tutti i giorni e proprio perché lo ripeto cerco di condividere le informazioni come facciamo a sapere che la fonte dice la verità mi chiede Adriana è un'ottima domanda come facciamo a sapere che è una fonte beh bisogna vedere cosa ha fatto questa fonte di solito generalmente condivide delle notizie che poi si rivelano vere generalmente questa fonte è affidabile questa fonte di solito ci dà sempre delle notizie come dire pulite oggettive oppure ci mette del suo lei rinterpreta un po' le approssima un po' dice sì potrebbe essere andata così ma secondo noi invece ecco questa fonte forse non è tanto affidabile va bene ragazzi però non voglio farvi stasera una lezione non è l'occasione non posso farvi un video di di indagine stasera stasera festeggiamo ve l'ho detto e chiacchieriamo e soprattutto rispondo alle domande allora Edoardo secondo lei ci sono dei documenti che non desecreteranno perché troppo grave ma certo ovviamente ci sono ci sono tanti episodi nella storia di qualunque paese che contengono delle informazioni che chi decide di non di non condividere evidentemente pensa che potrebbero provocare dei danni se fossero condivisi oppure ha qualcosa da nascondere chiaramente per tanto tempo le informazioni sugli anni di piombo sono state coperte dal segreto perché c'era una situazione politica internazionale molto tesa era quella della guerra fredda e quindi non si volevano condividere certe informazioni altre volte non si condividono e non si desecretano dei documenti perché si metterebbero magari a rischio degli agenti delle persone che lavorano sotto copertura in segretezza in ambienti pericolosi in ambienti criminali in ambienti terroristici eccetera quindi condividere quelle informazioni vorrebbe dire condannare quelle persone a morte insomma i motivi sono tanti però sicuramente succederà ragazzi voi mi avete fatto nel frattempo altre due trecento domande e io sono sono rimasto indietro vediamo un po' allora il mondo infestato dei demoni di Carl Sagan bisognerebbe ristamparla è assolutamente ragione simone un libro bellissimo ero rimasto a una ristampa di Baldini mi sembra Baldini e Castoldi di qualche anno fa ma adesso mi sa che sarà andato perso anche quello ahimè sul mostro di Firenze guarda sul mostro di Firenze Zanca Frop ne ho scritto in due libri per un totale di non so cento centocinquanta pagine ne ho scritto nei grandi gialli della storia e in cronaca nera tutti e due non sono uguali quelle cose che ho scritto sono molto diverse sono due approfondimenti diversi il problema è che sono tutti e due questi libri fuori catalogo quindi chissà magari riusciamo a riportarli in vita come ho fatto con Marta che aspetta l'alba come ho fatto con il Titanic tutti i libri che erano fuori catalogo che invece abbiamo riportato in vita magari riusciremo a farlo anche con questi che ne pensi del caso Diatlov ragazzi questo me lo chiedete tante volte io ci sto lavorando ma come sapete sto lavorando a 10.000 cose in contemporanea spero di farlo presto un video su quel caso perché è veramente una storia affascinante cosa mi chiedi Griz scusate collaborazioni con altri divulgazioni in cantiere beh quelle sempre cioè a me piacerebbe piace collaborare con gli altri quindi se nascono occasioni si fa sempre molto volentieri programmazione neurolinguista mentalismo certo Medjugorje imparare a scrivere libri allora per imparare a scrivere libri io ogni tanto sul mio sito massimopolidoro.com cerchi con la parola scrittura troverai una serie di articoli che ho preparato su questi temi ciò non toglie che potrei anche fare un video ecco chi si iscrive all'avviso ai naviganti cioè la mia newsletter riceve tra le altre cose riceve diverse cose quando arriva l'iscrizione ma tra le tante cose c'è un ebook in particolare con una serie di consigli di Stephen King che io commento su come scrivere bene insomma in particolare è centrato sui thriller ma in realtà valgono per qualunque tipo di scrittura se non siete ancora iscritti all'avviso ai naviganti fatelo trovate il link sul mio sito massimopolidoro.com lo trovate sotto la descrizione di qualunque dei miei video nelle descrizioni di questo canale insomma su facebook trovate dappertutto il link per iscrivervi all'avviso ai naviganti se lo fate ricevete un po' di materiale eccolo là Gianni dice le book di King su dieci è fichissimo grazie Ettore Majoran è un altro argomento che vorrei approfondire Adam Cadmon Adam Cadmon non c'è più ragazzi è inutile che continuate a chiedermelo abbiamo già raccontato questa storia gli autori che l'avevano creato questo personaggio sono mancati tutti e due tra l'altro uno dei due era anche un amico avevamo fatto delle cose insieme in televisione poi c'è ovviamente chi si spaccia per perché chiaramente è rimasto un buco e qualcuno cerca di riempirlo ma quel personaggio là quello del programma non c'è più era un personaggio con un attore con una voce di un altro attore ancora e i testi scritti da questi bravi autori di misteri ecco Rolando Giambelli certo è quello che conosco Alberto è un eccezionale amico Beatlesiano ci conosciamo a tanti anni in gambissima mi chiedete Filadelfia Experiment un altro strane storie strane storie c'è stato due settimane fa Giovanni e c'era la puntata su Le Pietre d'Ica venerdì tieni d'occhio il canale perché potrebbe arrivarne un altro che libri hai lì dietro che genere di libri e leggi nel tempo libro che bella questa idea del tempo libro mi piace guarda di libri qua dietro quelli che stai guardando in realtà sono un po' monotematici devo dire questi qua questi libri qua questi questi qua fino in fondo ma anche le due tre quattro file che ho qui sopra sono tutti tutti devo dire su un argomento solo e l'argomento è questo qua i Beatles sono tutti i libri che riguardano i Beatles come potete intuire sono un po' una mia passione una mia fissazione qualcuno direbbe però vi dico che cosa che cosa ho sulla scrivania insomma qui ho diverse cose che ho sempre sotto gli occhi quando ho un minuto per leggere qualcosa che mi aiuti a svagarmi allora lo sapete uno ve l'ho già citato il libro postum dell'amico Eugene Burger che non c'è più From Beyond che mi sto gustando vedete sono arrivato qui me lo sto gustando proprio due tre pagine al giorno non di più perché porca miseria so che ce ne sarà un altro che arriva l'anno prossimo però voglio farlo durare il più possibile questo è uno poi in questo momento stavo guardando anche Arthur C. Clarke Mysterious World che riguarda una serie di fatti misteriosi anche per trovare spunti per le nuove strane storie un altro è questo qui The World of the Unexplained questo molto illustrato diciamo più illustrato che di contenuti questa è una cosa poi un libro che che ho letto ma che ogni tanto risfoglio perché ci fa davvero capire chi siamo ve lo consiglio se non l'avete letto dell'amico Guido Barbujani che tra l'altro vedo domani per un'altra cosa il titolo è Gli africani siamo noi alle origini dell'uomo perché perché siamo africani perché veniamo tutti da lì amici non è inutile pensare che siamo di tante etnie diverse le etnie le etnie magari ci sono ma la razza è una sola quella umana siamo tutti quanti parenti siamo tutti quanti fratelli un altro libro che sto leggendo ragazzi però questo è un po' più è un po' più lunghetto ci metterò un po' di più Norman Mailer Oswald's Tale l'avevo letto a spizziche bocconi anni fa ma adesso me lo voglio ho preso proprio un'edizione di quelle tascabili si fa per dire tascabili queste qua sono la bellezza di no giusto per capire va bene anche dai 800 pagine ed è la storia dell'assassino del presidente Kennedy e ovviamente Norman Mailer lo sapete premio Pulitzer credo due volte un grandissimo scrittore americano partito come complottista Norman Mailer era un complottista assolutamente convinto è andato avanti anni poi a furia di documentarsi di studiare si è reso conto di come erano di come stavano i fatti e l'unico modo per capire come si è arrivati a quel momento il 22 novembre del 63 quando Oswald ha sparato a Kennedy è capire chi era Oswald guardate quanto tempo ci ha messo tantissimo e perché è arrivato fin lì ed è quello che ho cercato di fare anch'io nel vabbè ve lo faccio vedere il mondo sotto sopra ve lo faccio vedere perché è arrivato anche lui a un traguardo la terza edizione grazie grazie a tutti per averlo preso se lo state ancora se lo prendete se lo volete leggere allora a qui lo sapete ho dedicato le ultime cento rotte pagine queste qui tutte a indagare il caso Kennedy molte di queste pagine sono tutte dedicate a capire chi era Oswald perché è arrivato a fare quello che ha fatto come mai lo ha fatto e giusto per continuare a stare in tema un altro bel librone che ho deciso di riprendere in mano perché insomma i libri io ne leggo più che posso perché leggere è qualcosa che dà una soddisfazione enorme ma soprattutto arricchisce la mente come non può fare nessun altro beh certo le esperienze sono la prima cosa ma non i video i video filmati aiutano a capire qualcosa in una maniera più divertente più veloce se vogliamo ma se uno vuole approfondire deve leggere i libri e vi dicevo che non solo libri nuovi e ne ho parecchi tutti i giorni o li compro o me li mandano perché conosco tanti amici che sono autori oppure me li mandano le case editrici per avere un parere per chiedermi che cosa ne penso quindi me ne arrivano un po' tutti i giorni è difficile ovviamente stare al passo me li tengo alcuni me li tengo perché me li voglio gustare lo sapete e uno che sto rileggendo adesso qui non ho la sovracoprettina ma vi faccio vedere il dorso Stephen King 22 novembre 63 ed è proprio altro bel libro neppure questo ed è il libro che Stephen King ha dedicato all'assassinio del presidente Kennedy però partendo da un presupposto di fantascienza cioè un insegnante di lettere trova un passaggio spazio temporale oggi lo trova e torna indietro nel tempo con l'obiettivo di fermare colui che ha ucciso il presidente Kennedy ma prima deve scoprire chi è stato ad ucciderlo se davvero è stato Oswald insomma vedo Grizzly che anche tu lo stai rileggendo grandissimo grandissimo libro grandissimo Stephen King ho appena saputo che uscirà una collezione di nuovi racconti o meglio di nuove novelle di Stephen King a maggio le novelle di King sono fenomenali a parte i racconti brevi le novelle sono dei piccoli romanzi pensate a The Body il corpo quello che poi è stato trasformato nel film bellissimo Stand By Me oppure pensate a The Shawshank Redemption che invece poi è diventato Le Ali della Libertà altro film meraviglioso quelli erano racconti tra l'altro contenuti tutti novelle scusate contenuti tutti nello stesso libro che si chiama Stagioni Diverse e ce ne sono altri due insomma se ce la fate leggetelo se non avete mai detto niente di Stephen King leggete Stagioni Diverse Samuele dice hanno fatto il ministerio prodotto da J.J. Abrams James Franco di 22 novembre 1963 merita ovviamente non è così profonda come il libro che entra proprio nella mente dei protagonisti ma è fatta bene è fatta bene molto bella tutta la ricostruzione ma è proprio King che scrive tutti i suoi libri Ilenia si è proprio lui che li scrive guarda nessun altro potrebbe scrivere libri così è quello che fa lui tutti i giorni lo dice sempre lo si vede ma basta leggere per renderti conto che nessun altro potrebbe scrivere così è proprio il suo modo di scrivere da quando è un ragazzo che scrive tutti i giorni è la cosa che gli dà più soddisfazione non è di quegli scrittori che fanno un libro diventano famosi hanno successo e poi se li fanno scrivere da altri per carità il piacere suo è proprio quello di scrivere vediamo un po' scusate recupero un po' di vostri messaggi Alessandro dice il mondo sotto sopra me lo porto sempre nei miei viaggi grazie spero di farti una bella compagnia Harry dice anche le notti di Salem bello una bella rivisitazione del genere dei vampiri cosa pensi del Vaticano mi chiede posso parlare beh c'ho scritto un libro si chiama segreti e tesori del Vaticano che non è grande così ma poco ci manca insomma per cui riassumere in due parole è un po' difficile adesso che siamo in 50.000 perché non fondiamo ma per carità ragazzi se ho parte di scherzi complimenti grazie grazie avevi letto a boiata che diceva che King aveva inventato un sistema che gli scrivevi libri al posto suo una boiata colossale non esistono sistemi che scrivano libri al posto degli scrittori bisogna proprio sudare tanto per scrivere però insomma se si inizia a farlo se è quello che si vuole fare se è la passione che si ha è scrivere allora bisogna scrivere e scrivere diventa un piacere io scrivo tutti i giorni scrivo tante cose non mi piacerebbe scrivere solo dedicarmi solamente ai libri tutti i giorni e poi magari nel pomeriggio fare altre cose ma è impossibile perché devo preparare tantissime cose oltre ai libri anche ai video non questi che sono chiaramente improvvisati sono chiacchierati tra di noi ma scusate ma ma quelli che sono che ne so anche i video i video di strane storie e io scrivo tutto non li butto lì abbraccio perché lo sapete voglio andare a fondo delle cose voglio esprimerle nel modo che sia più chiaro possibile ma soprattutto voglio verificare che ogni cosa che dico sia fondata e sia verificabile da chi guarda il mio il mio video insomma Biagio Toro anche io l'Ombro e lo Scorpione va bene ragazzi facciamo l'elenco dei libri Stephen King sta leggendo Leonardo grazie grazie è un bellissimo libro ti ringrazio mi fa molto piacere anche Leonardo è uno dei libri che mi hanno dato tantissima soddisfazione se siete su Audible vi ricordo che ve lo potete anche ascoltare mentre ve lo leggo ve lo leggo io allora Joy mi chiede qualcosa sulla bufala del coronavirus costruito in laboratorio beh ci ho fatto un video proprio venerdì scorso se lo recuperi qui sul mio canale lo trovi ci sono tutte le bufala tutte le principali bufale insomma sul coronavirus e come e che cosa c'è dietro veramente ecco oh che cosa scrive Davide grande Massimo ti ho dedicato un piccolo quadro perché ti stimo dove posso inviare la foto ma che gentile grazie grazie davvero se vuoi puoi mandarmela con Instagram se hai Instagram me la puoi mandare con una direct o se no mi puoi mandare una mail la mia mail è facilissima polidoro chiocciolacica.org altrimenti insomma vedi tu come 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 vuoi vediamo un po' però sono curioso di vederlo il disegno qual è la canzone dei Beatles che ti piace di più accidenti queste sono domande difficilissime vediamo no dai non ve la canto la canzone dei Beatles che mi piace di più forse Penny Lane però poi ci sono momenti in cui mi piace di più che ne so tutto il medley di Abbey Road Grizzly mi dice ma per i 100k portiamo lo scocciatore vogliamo portare lo scocciatore a fare una diretta direi proprio di no ve lo immaginate? figuriamoci suona suona si canta si canta suonaci qualcosa ma no ragazzi dai figurateli mi dice ho acquistato poco fa l'Atlanti dei luoghi misteriosi d'Italia beh spero che ti piaccia spero che ti piaccia perché è un'altra è un'altra di quelle cose che mi che mi ha entusiasmato moltissimo scrivere suona un pochino per noi e canti e dai ragazzi suona subito suona suona cosa non posso dai suonarvi cosa volete che vi suoni scusate perché poi non c'è spazio sono tutto incastrato qui mamma mia proprio un accenno è giusto un accennino vediamo indovinate cosa potrei cosa potrei volervi suonare cantiamo tutti insieme dai siamo cercati vabbè ti pensavo pianista eh suona anche il piano però il piano adesso qui non riesco a portarlo davanti al video vabbè dai proviamo così ma giusto un minuto eh ragazzi perché non non ho preparato niente vabbè ma tanto che sono scomodissimo vi spiace vabbè proviamo eh vedete vedete mi prendete così mi prendete alla sprovvista mamma mia cosa sto facendo eh niente stasera siamo proprio fuori sincro dai ragazzi basta così e vabbè dai mi avete fatto emozionare ho sbagliato tutti gli accordi dai vabbè quindi dicevamo tormetti su una cica band allora va bene e il video sui terrapiattisti il lato umano beh ma lo sapete eh che la musica no lo dice sempre anche Piero Piero Angelo sapete che è un pianista lui è un pianista di jazz fenomenale l'avete mai sentito suonare è così non so ci deve essere qualcosa che che in qualche modo eh lega no la la curiosità e la musica e vabbè per i 100k prepara puoi preparare una tastiera in che senso vuoi che la costruisca no un pianoforte posso suonare magari qualcosina al pianoforte ah vabbè vediamo un po' e come ho sentito Piero suonare certo a Sanremo a Sanremo beh insomma la cica fest l'avrete sentito sicuramente ma anche in televisione e il Mandela Effect ne ho parlato in un altro video Lilith eh adesso guarda mi sfugge quando è che ne abbiamo parlato a proposito dei falsi ricordi eh ne ho parlato anche Super Quark solo che adesso non mi viene in mente eh un mistero che segui da anni ma non riesci a risolvere e ce ne sono per così uno di quelli che mi piacciono di più che mi divertono di più è quello di Re Artù eh a me piacerebbe tantissimo riuscire a risalire a come si dice proprio alle radici storiche se ci sono insomma ci sono tentativi di fior di storici e ancora non ci riescono figuratevi altri misteri mi piacerebbe avere un sacco di risposte su Leonardo da Vinci perché come sapete ci sono tante domande io ho cercato di così di colmarne un po' raccontandolo ma tantissime cose restano restano un mistero eh ahimè quelli sono grandi misteri non stavo suonando io dice Fabrizio va bene dai no sentito che ho ho anche sbagliato per cui si suonavo io ehm un miliardo di domande poi quando c'è live me le dimentico tutte eh segnatevele ragazzi santo graal è un'esclamazione il santo graal no è un argomento parliamo del santo graal perché no lo faremo lo faremo quali argomenti hai trattato a lezione che hai tenuto a Padova all'Agripolis e lì parlo della comunicazione della scienza come raccontare la scienza a chi non ne sa niente è un corso che tengo per i dottorandi è un corso che tengo in inglese perché vengono un po' da tutte le nazioni quindi non non posso farlo in italiano e riguarda un po' come raccontare la scienza in particolare quella lezione di cui parli tu era dedicata soprattutto a come parlare in pubblico a come tenere un discorso pubblico che sia efficace e che sia coinvolgente per chi lo ascolta senza stancare insomma chi ci guarda sarai al salone del libro di Torino penso proprio di sì perché per quell'epoca dovrebbe esserci un nuovo libro in uscita ma c'è tempo per parlarne a proposito di Leonardo cosa ne pensi al sceneggiato interpretato da Philippe Leroy mi chiede Miccio beh sul mio canale trovi una serie che si chiama Leonardo e Genio Ribelle e vedrai che spezzoni piccolini di quella serie le ho usate costantemente proprio perché è uno sceneggiato meraviglioso il migliore che abbia mai visto tutt'oggi nonostante tutti quelli che sono stati fatti in questi anni in occasione del cinquecentenari insomma e quindi è qualcosa di a tutt'oggi considero il più bello e regge ancora in piedi Fabio mi chiede quante lingue sai parlare massimo eh parlare solamente l'italiano e l'inglese l'inglese perché ho vissuto negli Stati Uniti e perché lo parlo insomma quando ero ragazzo ho studiato anche francese ma ahimè lasciamo stare capisco ma no non posso parlare buonasera Christian allora ragazzi sono tante le vostre domande azzurrina azzurrina ne ho parlato nell'Atlante di metafonia ne ho parlato anche in un altro video non c'è nessuna metafonia nel caso di azzurrina è proprio una storia diciamo così molto commerciale non c'è proprio niente di misterioso esperienze di premorte merita un approfondimento merita un approfondimento ci sono tanti argomenti che riguardano la psicologia che meritano approfondimenti non abbiamo accennato abbiamo parlato un po' di volte in questi in questi nostri incontri soprattutto nei video dell'idea di fare un corso di psicologia dell'insolito e come si diceva non è non è così esatto il corso non è non è così mediato io vorrei farlo vorrei assolutamente prepararlo richiede del tempo ma sto cercando di capire come come riuscirci perché comunque il corso è qualcosa che richiede una preparazione naturalmente ma poi io vorrei condividerlo renderlo disponibile e però avrà dei costi e io non vorrei far pagare insomma ci sono tante variabili da superare da risolvere ma ci sto lavorando ci sto lavorando ma per chiarirmi le idee mi sa che farò un video ecco la cambusa la cambusa di mercoledì quando ci vediamo mercoledì parliamo di questo parliamo proprio del corso così vediamo un po' di chiarire qualche aspetto cosa può essere cosa non può essere eccetera bene parlaci dell'anima per favore cosa vuoi che dica se non mi metto a cantare stai già lì che sta ridendo ili ce lo so ma anche Gianluca sono già lì che ridono perché temono che mi metta a cantare anima mia ma video su Biglino no ragazzi tutte le volte mi chiedete questi video su Biglino Biglino ma cosa volete che faccia un video e interpreta rilegge la Bibbia interpretando a modo suo ci vede gli astronauti ci vede gli extraterrestri ma che ci vede quello che vuole ognuno può vedere quello che gli pare è un testo di duemila anni fa non è sicuramente un testo storico quindi è inutile star lì a leggere la singola parola perché vuol dire forse significa ma per carità sono storie leggende tramandate poi finalmente scritte da qualcuno ma non è storia non è scienza non è niente voi ci volete leggere extraterrestri ma liberi di farlo ma chi ve lo impedisce non pensate però che poi ci sia gente che ci crede al di fuori del vostro gruppo naturalmente mondo scientifico mondo storico non c'è neanche una persona che creda sta roba e allora lasciate che ci credano allora canta di nuovo insomma Nicola Tesla è anche Nicola Tesla è un altro degli argomenti che vorrei approfondire Nicola Tesla Passo Diatlov Ettore Majorana sono un sacco di cose che sto pian pianino portando avanti ma ci vuole tempo video stile titoli di star wars con tutti gli argomenti trattati cosa ne penso di Paolo Attivissimo Paolo Attivissimo è un carissimo amico lo sento costantemente da un po' che non si fa vedere no no ma Paolo come dice il suo nome è attivissimo tutte le settimane ha un programma in radio la radio svizzera il disinformatico scusate dei capelli che sono un po' partiti e poi il suo blog il disinformatico omonimo è costantemente attivo tutti i giorni pubblica qualcosa e continua a indagare continua ad aggiornare sulle bufale quindi non vedo che così ci sia così da aggiornare su di lui basta seguirlo e uno trova una montagna di cose cosa ne pensi di Harari mi piace molto lo seguo mi piacciono i suoi libri lo seguo quando parla quando parla anche nelle conferenze nei video è un gran personaggio mi interessa moltissimo un episodio di strane storie simile a quello di Robin Hood per l'Iliade potrebbe essere un altro argomento collaborazione con Adrian Fartade Adrian è un amico chissà magari magari faremo qualcosina insieme chi lo sa chi lo sa 2020 anno di Raffaello qualche mistero facciamo un episodio che riguarda Raffaello un suo dipinto dove qualcuno ci vede un disco volante un UFO vabbè dai magari ci facciamo un episodio di strane storie sull'UFO di Raffaello che è divertente scriverai altri libri con Bruno Jordan è quello che spero anche perché al momento sono due i libri di Bruno Jordan Bruno Jordan è un personaggio di il mio thriller d'esordio aveva Bruno Jordan questo giornalista come protagonista si intitolava Il passato è una bestia feroce che è andato molto bene e poi ha avuto un seguito che si chiama Non guardare nell'abisso e poi c'era un terzo libro che io ovviamente ho tutto nella mia testa ma che non non è ancora stato scritto perché sono stato travolto da una miriade di altre cose da fare e quindi spero di di riuscire a a scriverlo presto e insomma e di concludere almeno questa trilogia poi magari Bruno Jordan potrà continuare anche dopo che ne penso di Alessandro Barbero un grande Alessandro Barbero lo conosco insomma siamo tutti e due a Super Quark ma lui è veramente eccezionale quando racconta la storia quando la fa a suo modo L'uomo nell'alto castello carina non l'ho seguita tutta devo dire però sì è carina l'idea di Dick non è male in che epoca avresti voluto vivere guarda questa questa qui anche se sarebbe stato divertente vedere Leonardo all'opera nel 500 penso che i problemi che c'erano all'epoca il rischio di beccarsi un raffreddore e lasciarci le penne o un'infezione di qualunque tipo e non avere una medicina per curarsi mi fanno proprio sconsigliare di tornare a quell'epoca o nemmeno all'epoca dei Beatles non sarebbe stato divertente vederli dal vivo tutti e quattro tributos o magari incontrarli che aspetta se avesse una macchina del tempo sarebbe bellissimo andarla un giorno ma poi tornare qua questa è l'epoca in cui voglio vivere perché al di là di tutti quelli che sembrano problemi insormontabili che effettivamente ci sono e sono tanti i problemi l'epoca in cui stiamo vivendo guardando i dati io parlo dei dati in generale ci sono degli ottimi libri che ve li racconto sto guardandomi intorno per vedere dove li ho cacciati ma uno di questi si intitola factfulness basato sui fatti quali sono i fatti che i bambini che muoiono alla nascita sono infinitamente meno di quant'erano solo pochi vent'anni fa delle persone che muoiono di fame sono infinitamente meno di quant'erano vent'anni fa gli incidenti i mortali gli omicidi sono molti molti meno e così via insomma ci sono tutta una serie di miglioramenti che abbiamo fatto la strada è lunghissima mamma mia per riuscire ad arrivare a una situazione in cui non ci siano più degli orrori naturalmente ma l'epoca che stiamo vivendo rispetto a quella di 50 anni fa di 100 anni fa di 500 anni fa è infinitamente migliore per tanti aspetti davvero uff mamma mia scusatemi ma mi sono lasciato un po' prendere e il tempo cara caspita vola siamo noi siamo già caspita quasi 500 persone mi state seguendo in questo momento è un onore ragazzi mi fa veramente piacere che siete così tanti dopo 40 minuti che parlo Ren Le Chateau ne ho parlato ne ho parlato dove è che ne ho parlato aspettate ne ho parlato da pochissimo ho segnalato Mariano ah e caspita nell'ultimo avviso ai naviganti l'avete ricevuto? c'era proprio una foto mia in cui ero a Ren Le Chateau e la foto me l'aveva fatta Mariano Tomatis eravamo andati lì proprio per ancora all'epoca del codice da Vinci insomma è una storia è una bella storia divertente chiaramente Claudia sì ho postato una foto perché questa è la novità dell'avviso ai naviganti della scorsa settimana che ogni volta condividerò uno scatto personale del passato che è legato a qualche storia quindi nell'avviso ai naviganti trovate anche questa questa piccola sorpresa insomma giusto per condividere qualcosa che magari sugli altri social invece non non condivido oltre a tutte le i miei spunti per da leggere da guardare cose che mi hanno stimolato dove ho trovato delle belle idee grazie bellissimo queste dirette fanno di più eh vabbè dai grazie davvero conosci le presunte piramidi bosniache sì 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 le conosco esatto hai detto bene sono presunte nel senso che quando si vede una forma un po' una montagnola subito si pensa che siano piramidi magari egizie speciale ragionaggio complimenti per la Fairphone grazie grazie Natuzza Evolo guarda se vai sul nostro sito sul sito del Cicap cicap.org e cerchi Natuzza Evolo trovi una serie di articoli curati da Armando De Vincentis dove il suo caso viene esaminato nei dettagli bello nuovo avviso il nuovo avviso grazie Fabrizia l'esistenza storica di Gesù Cristo magari potremmo farlo richiederebbe una serie mi sa è quello potrebbe essere una serie come quella che ho iniziato sul caso Kennedy il caso Kennedy è una serie e lo so che state aspettando il secondo episodio ma è una serie che richiede una quantità di lavoro enorme molto più che per strane storie perché non c'è solo la ricerca per cui ogni singola frase che io dico deve essere documentata deve essere verificabile da chiunque poi voglio mettere tutte quelle mie fonti nella descrizione del video così chiunque lo potete trovare ma poi c'è anche il lavoro di preparazione se l'avete visto il caso Kennedy vi siete accorti insomma che c'è una lavorazione abbastanza attenta proprio intendo il montaggio c'è una musica creata ad hoc dal mio carissimo amico Marco Forni che è un musicista formidabile una musica bellissima che mi fa veramente sembrare che sia un vero documentario quello che state guardando invece sono io che traffico un po' con la videocamera e con Final Cut insomma io cerco di rendere i miei contenuti il più possibile professionali proprio perché perché insomma voglio voglio condividere cose fatte bene ecco potresti fare un duetto con Morgan potrebbe essere rischioso allora ho guardato il video di James Randy con te in giacca bianca cosa avevi fatto una telefonata non ho capito no in che senso cosa avevo fatto se guardi il video lo trovi nel la mia storia è il video che trovate sul sul mio canale si chiama la mia storia vedrete questo piccolo video dove siamo io e Randy nel 1989 ragazzi 30 anni fa e in quel video io ero in collegamento con l'Italia e raccontavo cosa stavo facendo lì negli Stati Uniti era il periodo in cui stavo proprio facendo l'apprendista di Randy legge ancora di Landog quando capita quando capita diciamo che io sono iniziato a leggere quando c'era Tiziano che le scriveva poi sono diventato carissimo amico per mia grande fortuna di Tiziano Sclavi e poi lui un po' ha smesso ecco poi ho continuato per un po' però insomma sono talmente tante le cose da seguire che tutto tutto non si riesce Ringo Stardi Sanremo mi è piaciuta sì è simpatica molto simpatica riguardo l'Olocaust hai perfettamente ragione potrebbe essere un'altra idea perché sono sempre i più coloro che credono che non sia mai venuto è vero questa è un'altra tremenda notizia di pochi giorni fa c'è un tipo un 15% degli italiani che pensa che l'Olocausto non sia mai accaduto ma vi rendete conto incredibile che lo dicevano lo dicevano chiaramente gli stessi gerarchi nazisti lo dicevano primo Levi racconterete queste cose e nessuno vi crederà purtroppo si sta avverando quella terribile profezia quindi bisogna tenerlo assolutamente vivo quel ricordo adesso che iniziano a mancare le persone che hanno subito quella tremenda esperienza la psicologia dei complottisti beh nel corso sulla psicologia dell'insolito parliamo anche di quello perché è fondamentale animali domestici ahimè no mi ricordo però che Randy prima che io andassi a fare l'apprendista da lui io stavo a casa sua proprio ero suo ospite fisso per un anno e passa avevo la mia stanza avevo tutto però lui mi raccontava che aveva fino a qualche anno prima come animale domestico una tarantola una tarantola vera che camminava lui se la portava in spalla beh insomma meno male che poi quando sono andato io l'unico animale domestico che c'era era il Charlie che era il gatto rosso il gatto di Randy però c'erano anche i procioni c'erano dei procioni che ogni tanto si facevano sentire che passavano ma quelli non erano domestici vabbè ragazzi ci stiamo avvicinando un po' alla conclusione il manoscritto di Vojnic insomma Day in the Life ah ragazzi vabbè dai chiudiamo con due note da giusto da giusto per chiudere in musica è pure scordata sta chitarra ragazzi no dai non fatemi cantare il random news today oh boy vabbè lo so lo so dai una volta facciamo una cantata una cantata davvero completa ci scegliamo qualche brano ma si famose una cantata dice niente dai facciamo che che vi saluto e magari vi saluto scusate cerco di spostarmi che chitarra è questa chitarra qui ebbè questa è una chitarra qui sono molto affezionante vi faccio vedere è una Martin per chi suona questo modello in particolare si chiama D28 ed è la stessa chitarra che usava Paul McCartney quando registrava l'album bianco una chitarra che ha ancora ovviamente se suonano Here Comes The Sun lo suono in contemporanea dai la prossima volta facciamo Here Comes The Sun vabbè insomma ragazzi è stato un piacere e niente noi ci vediamo mercoledì dove troveremo la cambusa come vi ho detto e la faremo la dedicheremo un po' parleremo del corso del corso di psicologia dell'insolito e poi venerdì invece tornerà vediamo che cosa far tornare buonanotte a tutti e niente vi lascio con queste due tre note vediamo chi la riconosce ciao ragazzi buonanotte è stato è stato molto divertente a presto a parte che adesso non so neanche più come fermare la diretta arrivederci oh non vorrei cancellarla e lo sapete cosa succede l'altra volta per sbaglio ho premuto il tasto sbagliato e ho cancellato tutta la diretta stavolta voglio salvarla buonanotte a tutti grazie Grazie.